Unboxing violento. Vediamo cosa mi è arrivato. Dell'ottima carta. Ottimo. Condensatori elettrolitici. 22 microfarad, 400 volt. Michigan. Ottimo. Posta termica. Per CPU. In quantità industriale. Ottimo. Veramente ottimo. Non so se i condensatori si sono visti, ma erano questi qua. Da tme.eu. Io compro spesso qui. E per finire. Captain Tate. Nastri. E attenzione, un regalino? No. Questa è altra roba. Ok. Scatola vuota. Trecciola di saldante. Ottimo. Trecciola di saldante. Purtroppo ROHS. Però non capisco che senso abbia ROHS. Una tricciola di saldante. E il Captain Tate finalmente, che mi serviva. Nastro che resiste alle alte temperature. E questo è tutto.